Arpaceas è presente a MCE anche quest'anno a presentare DDS CAD. DDS CAD che cos'è? È un software BIM per la progettazione impiantistica, è tra i più diffusi software per questa disciplina in Europa. Specificatamente si occupa della progettazione di impianti sanitari, di ventilazione di riscaldamento e anche per la progettazione di impianti elettrici. È un software BIM, come dicevo, anzi meglio Open BIM, completamente aperto proprio perché supporta il formato IFC, senza bisogno di plug-in può interfacciarsi con i più diffusi software di modellazione BIM presenti sul mercato, in Italia ovviamente ma non solo. Le sue caratteristiche principali sono proprio quelle di consentire ai progettisti di essere progettisti, vale a dire di non preoccuparsi di tutte quelle funzioni particolari come per esempio le interferenze degli impianti o il dimensionamento perché DDS CAD previene le interferenze con delle funzioni automatiche così da avere un modello corretto già in fase di progettazione e ha delle funzioni che consentono il dimensionamento degli impianti, oltre a produrre anche le liste delle parti e il computo degli impianti. Non mancano ovviamente le librerie e qui DDS CAD ha un altro punto di forza. Sono librerie aperte proprio perché possono ricevere le parti di qualsiasi produttore grazie sempre al formato IFC che consente appunto di dialogare in modo aperto e interoperabile con tutte le altre piattaforme. DDS CAD si configura quindi oggi come un prodotto che è pienamente compatibile con le nuove norme sul BIM. Voglio citare per esempio il decreto ministeriale 560 e le norme UNI, le 11337 che normano a livello privato le funzioni sul BIM. Chiudo ricordando che Arpaceas non è soltanto un rivenditore di software ma nel nostro portfoglio esistono anche i servizi per l'implementazione del BIM all'interno degli studi di progettazione delle società di ingegneria. Voglio citare per esempio il pacchetto di servizi BIM Ready che contengono servizi per l'affiancamento su progetti pilota piuttosto che corsi di formazione oppure il nostro know-how che è già stato utilizzato da diverse realtà per la scrittura di appalti o di gare BIM based. Arpaceas ha inoltre ottenuto recentemente il rilascio della qualifica ai fini della valutazione delle competenze dei nuovi esperti BIM. Organizziamo corsi di formazione e sessioni di esami per le nuove figure BIM come gli BIM specialist, BIM coordinator e BIM manager.